Oggi è un giorno molto importante, molto significativo. Siamo davvero contenti e determinati nel procedere sul percorso delle riforme. Io ho sentito dire a qualcuno che adesso è una fase di transizione e dobbiamo fermarci, aspettare le elezioni del Presidente della Repubblica, dobbiamo rallentare. Io credo che l'Italia abbia già rallentato troppo e nei campi sbagliati. Ora è il momento di accelerare sulle riforme perché siamo qui per fare le riforme, per cambiare le cose, per ridare spazio e speranza agli italiani, per non perdere neanche un minuto. E da questo punto di vista, con buona pace di quelli che vorrebbero fare i frenatori, noi andiamo avanti, certo con prudenza, con saggezza, con buon senso e con l'equilibrio necessario.